Roberto Giacobbo passa a Mediaset. Era di poche settimane fa l'annuncio del conduttore di Voyager in cui diceva che avrebbe lasciato la Rai per una sua personale decisione, da vice direttore, peraltro confermato, e dipendente di Rai 2, nessun dissenso con il servizio pubblico che in questi anni mi ha dato tanto dal punto di vista professionale. I rapporti sono cordialissimi. Non c'è nessuna certezza sul mio futuro. Sono un professionista sul mercato, è vero, ma al momento sto valutando alcune offerte in generale. Di più non posso e non voglio aggiungere. Ma ora, secondo il sito di Davide Maggio è ormai una certezza che Giacobbo, 56 anni, entrato in Rai come autore e collaboratore nel 1991, lavorando per Rai 1, Rai 2, Rai 3, ma anche canale 5, Rete 4 e la 7, sarà il volto del canale Focus, nella sua nuova versione firmata Mediaset. Manca un mese al lancio della rete, ma pare certo che tra i volti che popoleranno il palinsesto c'è proprio Giacobbo. Le offerte che dunque stava valutando erano, certamente, anche quelle da parte dalla 500 alla 1 Mediaset, tanto che al momento sembra manchi solo l'annuncio ufficiale da parte dell'azienda. In passato, il direttore dei canali tematici Mediaset, Marco Costa, non aveva escluso il coinvolgimento di volti noti al pubblico nella programmazione del nuovo canale, il numero 35, del gruppo.